Ganesh è il primo Dio che noi dobbiamo adorerare ogni volta che iniziamo una preghiera. Ganesh è il figlio di Shiva e Parvati. Per continuare Ganesh è praticamente un idolo per noi, veramente molto suprema per tutti. Ci dà benessere, ci pensa a tutto, ci toglie tutte le difficoltà, tutte le cose, i problemi che abbiamo. Per questo adoriamo Ganesh e per questo ogni anno facciamo la preghiera di Ganesh e veniamo a mare, o a mare chi non ha mare vicino, si va al fiume per praticamente immergere la statua di Ganesh che è fatta tutto di terra, tutto ecologico, non inquina niente. e quindi questa è una cosa che praticamente lo facciamo ogni anno per la sua ricorrenza che cade proprio nel periodo agosto-settembre e quindi lo facciamo sempre e questa è una cosa molto orgogliosa per noi, per la religione hindu. Ganesh è la forza dell'elefante e l'astuzia del topo? Ganesh è praticamente la forza dell'elefante e l'astuzia del topo. E invece da quanti anni siete a Palermo? Quante persone sono nella vostra comunità? Allora nella nostra comunità abbiamo tante persone, però come numeri chi frequenta il Tempio la comunità è grande perché la comunità hinduista è molto vasta qua a Palermo perché non c'è solo la comunità hinduista mauriziana ma c'è la comunità hinduista Bangladesh, Sri Lanka e di India proprio o ancora dell'India Punjab, insomma a Palermo siamo molti e molti quelli che frequentano il Tempio saremo una 200, 150, 200 che frequentano il Tempio però quando ci sono ricorrenze così vengono tutti a festeggiare la festa di Ganesh. Anche i ragazzi, anche tanti ragazzi? Anche tanti ragazzi, i giovani, la nuova generazione che noi li insegniamo per portare la cultura hindu la nostra cultura, per portarlo avanti. Vengo da Bari per celebrare questa città mondia per una famiglia che vive qua da tanti anni a Palermo. Io sono da 38 anni che vivo a Bari, fuori a Bari abbiamo il Tempio e i mandiri che fregono la comunità mauriziana. Qua tanti mauriziani a Palermo e a Bari? Lo stesso, sono più di 1100 mauriziani però di diversi religioni, non sono tutti indisti, c'è cattolico, musulmani, tamil, indiani. Anche a Bari ben integrati? Sì, sono molto molto integrati a Bari.